cari amiche e cari amici in questa playlist voglio parlarvi di un argomento che fa parte di alcune lezioni tenute da un professore universitario che stimo moltissimo e è uno storico che si chiama emilio gentile e tra l'altro ha scritto dei libri uno più bello dell'altro a mio parere la playlist tratterà basandosi sugli studi appunto di gentili e su alcune sue lezioni universitarie della sacralizzazione della politica ci sono a volte dei partiti politici che sono diventate vere e proprie religioni altre volte sono le stesse religioni che ampliano il loro campo invadendo quello della politica però gli studi di gentile sono molto interessanti perché ci dimostrano come questo bisogno religioso dell'essere umano che è innato nell'essere umano trovi spesso concretizzazione nella politica proprio nella vita politica partiamo da un esempio concreto che è la banconota americana la banconota da un dollaro quella con l'effigie di george washington forse non l'avrete mai notato bene ma quello proprio è un simbolo religioso alcuni possono restare stupiti da questa no può magari sembrare un'affermazione blasfema mescolare la religione che la massima espressione della sacralità con i soldi no che sono proprio l'oggetto più comune del mondo profano lo sterco del demonio diceva martin lutero ma in realtà il carattere simbolico legato all'aspetto religioso che è contenuto nel dollaro è molto evidente se noi osserviamo per esempio il retro della banconota vedremo che c'è una iscrizione che fa riferimento a dio in god we trust che vuol dire noi confidiamo in dio che questo tra l'altro è il motto nazionale degli stati uniti da che dal 1956 c'era come presidente esenauer che decise proprio che questo doveva essere il motto degli stati uniti in god we trust noi confidiamo in dio quindi già vediamo un elemento sacro su un oggetto molto poco sacro come il danaro sempre sul dollaro vediamo l'aquila americana che alle arie spiegate e cosa stringe negli artigli avete mai notato da una parte le frecce della guerra e dall'altra un ramo d'olivo e nel becco si legge un'altra frase che è e pluribus unum che vuol dire da molti uno questa frase è composta da 13 lettere questo numero non è casuale perché corrisponde al numero delle colonie che diedero appunto vita alla alla nuova repubblica l'aquila sull'aquila ci sono 13 stelle queste 13 stelle sono disposte in modo da formare a loro volte una figura stellare circondata da un'aureola scintillante chi vuole mentre ascolta il video può cercare il dollaro no mentre lo descrive rivedere tutta questa descrizione no poi dall'altro lato del motto religioso c'è una piramide tronca che è formata da 13 strati di squadrati blocchi di pietra e questi blocchi rappresentano l'autogoverno invece questa l'incompiutezza della costruzione significa che ci sono altri stati che possono aggiungersi alla repubblica americana sul primo strato di blocchi di questa particolare piramide tronca è inciso un numero roma in numeri romani è una data che è la data della dichiarazione di indipendenza che mi pare fosse mille e 1756 no 1776 1776 la base di questa piramide ecco alla base vediamo un nastro c'è un'altra iscrizione che è stata presa da un verso di virgilio pensate che c'è scritto novus ordo secolorum che vuol dire un nuovo ordine nei secoli sulla piramide c'è un triangolo sacro con un occhio divino sovrastato sempre da una frase di 13 lettere anch'essa di derivazione virgiliana è sempre virgilio ha scritto questo e c'è questa frase nel cielo che come come se significasse che è pronunciata da una voce impersonale no che proviene dall'alto e la frase è annuit ceptis che vuol dire ha favorito la nostra impresa sono molti simboli ovviamente l'america è la patria della massoneria no però la cosa importante è che il biglietto dal dollaro è effettivamente un simbolo religioso perché esprime una professione di fede a tutti gli effetti che quindi da una sorta di alone di sacralità agli americani all'origine americana la storia americana le istituzioni e perfino al suo destino nel mondo novus ordo secolorum un nuovo ordine nei secoli e quindi tutti questi morti e queste immagini di cui vi ho parlato hanno significato religioso e non si capisce bene però di quale religione tutti questi simboli quale religione testimoniano e qui per capirlo dobbiamo dire che gli stati uniti sono un paese che ha molte confessioni religiose vi sarà capitato a volte di vedere su youtube no questi predicatori incredibili che predicano la parola di dio con lo stesso tono come se stessero vendendo delle lavatrici o o delle patate no ma nei fatti gli stati uniti gli stati uniti sono un paese che ha molte confessioni religiose che tra l'altro determina molto anche la politica c'era un noto pastore che parlava in una televisione molto seguita di new york pensate questo pare riuscisse a spostare ben tre milioni di voti in america comunque molte confessioni religiose e probabilmente sono tuttora il più religioso tra quelli che sono i paesi industriali poi quanto questa religione sia autentica questo è un altro discorso ma all'apparenza è già dal da tutta questa simbologia del dollaro si vince questa no l'america però non è uno stato confessionale nel senso che non riconosce una posizione privilegiata nessuna chiesa in particolare nel suo ordinamento istituzionale anche se poi c'è da pensare che il 30 per cento del del congresso sono ebrei quindi sono di religione giutaica che influiscono in larghissima misura su quelle che sono le scelte dei vari presidenti che si e susseguono la costituzione degli stati uniti e siamo nel 1787 lì non c'è alcun riferimento a dio non c'è alcun riferimento alla provvidenza o a cristo che avete fatto caso pure nei film christ c'è non sempre in bocca il nome di cristano però c'è un emendamento che è il primo emendamento che poi si è aggiunto a una costituzione successivamente nel 1791 che garantisce la libertà religiosa a tutte le confessioni quindi non vuole attribuire a nessuna religione specifica la funzione di chiesa di stato come fu ad esempio nel fascismo la religione cattolica no anche se poi analizzeremo questi aspetti e come ancora adesso anche se molto in calo per lo stato italiano e la religione cattolica comunque nonostante questo gli stati uniti professano ufficialmente una loro fede in dio e già l'abbiamo visto sul sul dollaro questo qui e fin dall'epoca proprio della rivoluzione la nazione americana si è sempre sentita prediletta da dio avete presente perfino nei film western che girano questi pistoleri nella mano destra la pistola e nella sinistra la bibbia perché perché la nazione americana ha sempre creduto di avere un legame mistico particolare con dio suggellato poi da un patto sacro perché perché il popolo americano si considera scelto da dio per compiere una missione storica a beneficio di tutta l'umanità in questa scelta questa predilezione di dio rivediamo molto lo spirito giudaico del popolo eletto e la dichiarazione di indipendenza che poi del 1776 inizia proprio affermando che il popolo americano vuole assumere tra le varie potenze della terra un posto preminente non solo ma continua dicendo che ha diritto a questo posto per due fattori per legge naturale che per legge divina e ecco nuovamente che ricorre dio questa poi il dichiarazione di indipendenza si conclude con un appello al eccolo qui lo stampo massonico il supremo giudice dell'universo e dice proprio al supremo giudice dell'universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni e qui parla anche di una ferma fiducia nella protezione della divina provvidenza sembra quasi una scimmiottatura della sacralità che era nell'impero romano non a caso dei luoghi più importanti della politica si chiama proprio il campidoido guarda caso comunque il richiamo a questo vincolo di elettivo potremmo dire che lega la nazione americana dio è ribadito nella formula del pegno di fedeltà alla bandiera degli stati uniti non so se sapete che nella alla fine dell'ottocento nelle scuole americane fu introdotta la preghiera obbligatoria che ancora adesso fanno e va recitata prima dell'inizio delle lezioni della scuola e nel 54 1954 il congresso decise di aggiungere a questa formula è questa sorta di preghiera la dichiarazione che gli stati uniti costuti costituivano one nation under gold cioè una nazione sottoposta a dio e nuovamente vedete ritorna il richiamo a dio ma attenzione perché questo richiamo a dio si trova anche nelle dichiarazioni più solenni per esempio nel momento del del quelli che riguardano i presidenti degli stati uniti no e fin dall'inizio quindi al precedente washington tutti i capi di stato americani all'atto dell'insediamento hanno giurato certo fedeltà alla costituzione però per quello che ci interessa perché il contenuto di questa playlist quella formula si concludeva con un giuramento che dio mi aiuti so help me god e nuovamente vedete e ricorre dio e allora si potrebbe vedere una contraddizione tra quello che è il principio di separazione tra stato e chiesa che ritroviamo nella costituzione americana e una professione di fede espressa da tutti questi molti e anche dai vari simboli e riti politici quindi qualcuno potrebbe dire ma qui c'è una contraddizione ma in realtà la contraddizione non c'è perché quel tipo di fede in dio quel tipo di fede nell'onnipotente che si esprime appunto nei simboli e anche nei rituali politici che sono riti a tutti gli effetti della nazione americana sono la manifestazione di una forma particolare di religione come abbiamo visto per esempio nel nel dollaro che ha tutti i simboli religiosi però attenzione questa è una religione che non concide con nessuna delle confessioni religiose che professano poi i vari cittadini degli stati uniti quindi è una religione civile qualcosa di molto particolare quindi in altre parole quel sistema di credenze di valori di 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 miti della simbologia che abbiamo visto anche sul dollaro è pieno di simboli non anche la bandiera americana esposta nelle scuole è un simbolo no e tutti questi riti abbiamo visto anche queste frasi pronunciate dai dei presidenti e tutto questo conferisce un alone di sacralità agli stati uniti d'america a quelle che sono le sue istituzioni alla sua storia e al suo destino nel mondo e qui poi c'è un aspetto gravi io avevo fatto una playlist sul vecchio canale poi andata smarrita chissà se è il caso di rifarla sui neocon americani una cosa pazzesca il fondatore strauss di di questi neocon cose allucinanti se si pensa che neocon hanno determinato prevalentemente la politica americana negli ultimi trent'anni per lo meno se non più comunque questa religione civile americana le sue sacre scritture e quali sono sono le dichiarazioni indipendenza la costituzione ma che sono veramente venerate come sorte di tavole della legge ricordiamoci che il lo spirito giudaico è quello che dimora nel nei cuori degli americani e quindi non è un appropriato riferimento alle tavole della legge e anche ai profeti e tutto il culto dei padri pellegrini no santificati come come eroi e pensate che george washington è stato anche chiamato a volte il mosè americano mosè che liberò liberò gli ebrei e george washington che libera dalla schiavitù inglese il nuovo popolo di israele gli americani unico popolo passato dal barbarie alla decadenza senza mai aver conosciuto un solo giorno di civiltà diceva qualcuno e così gli americani delle colonie e i cosiddetti nuovo popolo di israele liberati dalla della schiavitù inglese e la terra promessa una terra che nasce da un genocidio perché si parla sempre del genocidio degli ebrei ma fatta l'italia ebrei stanno in tutto il mondo in ogni paese del mondo sono milioni non si parla mai di il vero genocidio che è quello dei nativi americani dei cosiddetti indiani d'america che furono sterminati sterminati fino ad essere ridotte ancora oggi a poche centinaia destrutturati la maggior parte alcolizzati quindi inghilterra legame con l'inghilterra è ovvio che la regione civile degli stati uniti di matrice ebraica deriva dal protestantesimo anche perché il calvinismo che è la religione nell'ambito della quale nasce il moderno capitalismo vedete le playlist su webber se volete saperne di più ha portato per oltre un secolo una forte impronta richiamandosi al puritanesimo la tradizione biblica poi piano piano se ne è staccata come effetto esplicito e diretto ed è diventata appunto una religione civile che non entra in contraddizione con le varie confessioni cristiane e non cristiane che sono presenti in america l'america riconosce la libertà a tutte le religioni la religione civile americana dunque rispetta le singole religioni tra virgolette tradizionali perché il protesta non c'è una chiesa protestante che meriti che ha mai mai prodotto un mistico o qualcosa degna di essere chiamata sacra eh guardatevi questi pastori veramente sembra che vendono i prodotti della stenom no comunque le religioni cristiane siccome questa sorta di religione civile non entra in contrasto con loro rendono omaggio alla sacralità della nazione la sua istituzione suoi simboli la bandiera negli stati uniti tenete presente che è esposta perfino in molte chiese sopra l'altare esposta nelle scuole avete visto pure i film no dove ci stanno i processi e c'è sempre questa bandiera americana e allora ecco questa playlist avrà come argomento proprio la sacralizzazione della politica sotto molti aspetti questo primo video in particolare si è dedicata alla religione civile americana perché perché è il primo esempio dal punto di vista storico nell'età contemporanea di una religione della politica come abbiamo visto che cos'è una religione della politica è una particolare forma che riguarda la sacralizzazione della politica e che non riguarda solo l'america come vedremo riguarda proprio la politica nella modernità le concezioni politiche nella modernità e quando è che prende piede questa sacralizzazione della politica quando appunto questa dimensione politica dopo aver conquistato una sua autonomia istituzionale nei confronti della religione tradizionale comincia a questare una propria dimensione religiosa in che senso che assume un carattere di sacralità fino a rivendicare in molti casi non solo in america vedremo anche in europa la prerogativa di definire il significato il fine fondamentale dell'esistenza umana ma questo è accaduto anche nel comunismo è accaduto nel nazismo accaduto nel fascismo dunque potremmo dire che ogni volta che un'entità politica e mi riferisco a un politico nel senso ad esempio di si può prendere come entità politica lo stato una nazione o la razza come accaduto nel nazismo o la classe ma anche un partito un movimento qualsiasi cosa può essere trasformata in un'entità sacra che significa che viene resa trascendente indiscutibile intangibile ora vi sembrerà strano ma piano piano seguitemi la playlist e vedrete se non mi date ragione perché poi queste entità politica appunto il partito lo stato la nazione il movimento diventati sacri vengono collegati al centro di un sistema di credenze che è fatto di miti di valori di comandamenti diritti di simboli che diventa un oggetto di fede ma molti fenomeni il fenomeno dei grillini ma avete visto l'aggressività dei grillini su youtube se solo di azzardi a criticarli quello è un fenomeno religioso quella è una nuova fede una nuova forma di integralismo no guai a chi attacca non si può neanche osare di fare una critica a i vari grillini che viene spolpato sulla sul web è aggredito brutalmente e quindi ogni sacralizzazione della politica ogni religione politica avrà come tutta religione la sua etica i suoi comandamenti sui riti i suoi simboli che la renderanno oggetto di fede di riverenza di culto di dedizione fino al sacrificio della vita se necessario quanti sono partiti volontari nella seconda guerra mondiale su tutti i fronti e allora quando si arriva perfino a sacrificare la propria vita per un partito per una fede politica possiamo chiamarla tutti gli effetti così e vuol dire che si è formato una religione politica cioè un sistema di credenze che ha i suoi miti suoi riti suoi simboli che arrivano a interpretare esattamente come una religione il significato della vita umana e perfino il fine della vita umana quando si parlava dell'uomo nuovo di cui si è parlato nel nazismo si è parlato anche nel comunismo e quindi quando si fa dipendere il destino individuale e della collettività alla subordinazione a un'entità suprema e allora ecco la sacralizzazione della politica che è un fenomeno moderno io ho parlato della sacralità nell'antica roma ad esempio no ma è molto diverso quelle erano società che erano state fondate sul sacro sull'elemento sacro e il sacro era anche all'origine della politica il sacro era all'origine del diritto romano bellissimo l'ho già citato il professor casalino ma fantastico la storia che sono avvocato ha fatto una ricerca fantastica in un volumetto non troppo corposo che si intitola proprio il sacro e il diritto no quindi dal elemento sacro deriva perfino il diritto romano che ancora oggi si studia ai nostri giorni ma quella è una società fondata sul sacro qui invece è la politica che si appropria gli elementi sacri e li strumentalizza per i propri fini quindi c'è molta differenza per questo vi dico che la sacralizzazione della politica è un fenomeno moderno che si distingue da altre forme storiche di sacralizzazione del potere politico ne parleremo nel prossimo video perché adesso non c'è tempo però ve lo accenno pensiamo ad esempio a tutti quei personaggi che venivano considerati come diretta espressione della divinità farò un in egitto ad esempio e ritroviamo nel corso della storia molti di questi personaggi bene amici e spero che quest'argomento un po particolare un po insolito susciti il vostro interesse per il momento è tutto un caro abbraccio marco cosmo